E' stata inaugurata questa mattina all'emiciclo la mostra Gente Italica con l'esposizione delle opere inedite degli artisti Basilio e Tommaso Cascella. Pezzi d'arte acquistati dal collezionista Andrea Iezzi dopo aver verificato che quelle tele trovate quasi per caso sul mercato antiquario appartenevano realmente ai Cascella. Tutte le biografie di Basilio Cascella fanno riferimento a un gruppo di opere perdute per il Ministero dell'Interno dipinta intorno al 1937 e queste opere dal titolo Fabbro e Gente Italica mi sembravano dunque essere proprio in modo perfetto rispondere alla tematica delle opere che ci trovavamo dinanzi. Opere che comunque non possono sicuramente essere attribuite alla sola mano di Basilio che io ho identificato nelle allegorie dell'industria ma sicuramente nelle allegorie dell'agricoltura è la mano del figlio Tommaso che comunque in quegli anni lavorava a stretto contatto del padre. Il restauratore delle tele Leonardo Severini ha spiegato che le opere erano molto danneggiate e che sono stati necessari numerosi interventi tecnici per ridonare colore e vivacità. Le pitture dovevano servire come freggio decorativo della parte alta di una stanza di un luogo pubblico per una copertura di circa 5 metri di lunghezza. Presente alla conferenza stampa anche il consigliere e presidente del CRAM Antonio Inaurato secondo cui tutte le opere di Cascella portano i segni inconfondibili dell'Abruzzo. Siamo felici di ospitare la mostra dei Cascella presso la nostra sede del Consiglio regionale dell'Abruzzo in coincidenza con l'apertura della seduta ordinaria degli abruzzesi nel mondo che rappresenta per noi un messaggio culturale ma soprattutto rappresenta la vicinanza con i nostri connazionali che vivono all'estero. Quale esempio migliore attraverso l'arte di questa famiglia che ha disegnato, ha rappresentato nel corso degli ultimi cento anni la vera storia, la vera tradizione, la vera cultura del nostro Abruzzo. Tra gli intervenuti è anche Tommaso Cascella Junior, nipote di Tommaso e bisnipote di Basilio che ha definito le opere come un emozionante ricordo della famiglia di origine. È come aver ritrovato una lettera del nonno dentro un cassetto, un messaggio ancora, il bello è che ancora arrivano questi messaggi e il restauro è stato straordinario perché le condizioni di questi lavori erano pessime. Il sentimento più immediato è di grande commozione rispetto a questi lavori dove c'è il lavoro che poi sarà quello di mio padre, dove per esempio questa figura qua c'è il lavoro di mia madre che in quel tempo frequentava da ragazza lo studio di Pescara e io ho una tastiera del letto fatta da mia madre che mi ricorda moltissimo proprio questa cosa degli aranci, quindi mi ritrovo a casa naturalmente.